L'ex fidanzato di Barbara D'Urso scioccato e deluso dall'ultimo gesto della presentatrice napoletana. Nella recente intervista rilasciata a Silvia Toffanina Verissimo la conduttrice ha ammesso di essere singole e di aver avuto un corteggiatore in prova. Prova, a detta della 64enne, poi giunta al termine. Parole che non sono proprio piaciute a Francesco Zangrillo, che per la prima volta ha rotto il silenzio su questa storia di cui si è parlato per diversi mesi e vissuta nel massimo riservo nonostante le numerose foto dei paparazzi. Il broker assicurativo 48N ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 marzo. Zangrillo che non ha alcun legame di parentela col più noto professor Alberto ha spiegato che la sua relazione con Barbara D'Urso è durata un anno. Altro che corteggiamento finito male, stando alle parole dell'uomo si sarebbe trattata di una vera e propria storia d'amore, vissuta con una certa intensità. Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c'erano rimasti male. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.